Fingendosi cliente ha consentito l'ingresso in un comproro di molfetta di due rapinatori i suoi complici che, armati di un bastone e di una pistola, hanno rubato dalla cassa circa 1000 euro. All'arrivo dei carabinieri, il finto cliente, che è rimasto nel locale, è stato smascherato ed arrestato dai militari. Si tratta di Vincenzo Germinario, pregiudicato 31 anni di giovinazzo, accusato di rapina aggravata in concorso. L'uomo, entrando nel comproro, ha tenuto la porta aperta, facilitando in questo modo l'ingresso dei suoi due complici. Durante il colpo ha iniziato la sua recita, covacciandosi in un angolo del negozio in apparenza terrorizzato, ma senza che nessuno lo minacciasse. Germinario, forse immedesimatosi troppo nel ruolo anche dopo la fuga dei due complici, ha continuato a recitare la parte della vittima. All'arrivo dei carabinieri ha rinunciato ad allontanarsi, indotto anche dall'energica reazione della coppia di titolari del negozio che con determinazione hanno sbarrato la porta. Le due vittime, infatti, ritenendo Germinario un testimone chiave, hanno preteso che rimanesse sul posto sia nell'arrivo delle forze dell'ordine. Ma appena i carabinieri hanno visto i filmati delle telecamere, non hanno creduto alla presenza casuale dell'uomo arrestandolo. Ora si cercano i complici.